propongo un'osservazione tra il viaggio di Carlo Vidua in America con quello più famoso di Tocqueville per sottolineare anche l'importanza di un patrimonio che c'è all'Accademia delle Scienze di Torino che è la Biblioteca Americana del Conte Carlo Vidua. Curioso questo aspetto di Tocqueville che a vent'anni ebbe la prima idea nel 1825 a pensare a un viaggio in America per chiarire le sue idee sulla democrazia. Ne aveva 33 Vidua quando nel 1818 decise di partire per gli Stati Uniti e così chiarire le sue idee su problemi costituzionali e liberali. Il viaggio però Vidua lo fece nel 1825 perché molte cose stavano cambiando in Europa e il conte, curioso, voleva sicuramente vederle. Nel 1831 invece è l'anno in cui Tocqueville riuscì a partire nel famoso viaggio con Gustave de Maumont negli Stati Uniti e i due amici pensavano di poterlo giustificare con l'intento di studiare il sistema penitenziario americano in vista di una riforma carceraria in Francia. E perché Vidua invece parte? Vuole partire nel 1818, viaggio che farà invece nel 1825 per gli Stati Uniti. Ecco, il viaggio per Carlo Vidua è un momento importante, lo chiama imitazione sana, tra i mezzi per cogliere da altre nazioni delle cognizioni utili per migliorare appunto il proprio paese, il proprio stato. In questo, se volete, è simile a un atto aristocratico della sua epoca, più taldo ovviamente, che è il conte russo Leavtostoy, che nel 1857, dopo la disfatta, la battosta per i russi della guerra di Crimea, decise di visitare Inghilterra, Francia e Regno di Saldegna per vedere degli esempi concreti da suggerire al nuovo stato russo che si stava formando con un nuovo czar, non più Nicola I ma Alessandro II. Vidua è nato nel 1785, ormai quando farà poi viaggio negli Stati Uniti è un quarantenne, mentre invece Tocqueville, che ha letto ovviamente Chateaubriand, il suo lontano parente, e un ventenne romantico, che è comunque curioso, indagatore e anche sociologo. Ma la cosa che mi interessava era farvi capire questo momento storico, il perché nel 1818 Vidua non parte. Sono successe tante cose, c'è stata la caduta di Napoleone, che Vidua vede a Parigi nel 1814, per lui questo è un momento ovviamente interessantissimo, perché c'era entrata degli alleati, cioè degli austro-russi, dei tedeschi e degli inglesi nella stessa capitale, che viene occupata appunto dall'esercito che ha vinto a Lipsia Napoleone. Nel frattempo, nel luglio del 1814, viene nominato primo segretario del re di Sardegna agli affari interni, il padre di Carlo, che è Pio Vidua. In realtà, Carlo, devo dire che rimane deluso dalla restaurazione nel regno di Sardegna, che in quegli anni, tra il 1814 e il 1821, che è un anno importante perché sono i moti, i famosi moti del 21, in quel periodo ci sono le idee di Filippo Bonarotti, e della propaganda liberale carbonara, a cui aderiscono gli amici di Vidua come Santorre di Santa Rosa. Da tempo, il nipote del re Vittorio Emanuele I, Carlo Alberto, principe del ramo collaterale dei Savoia, i Carignano, e re del trono, re Vittorio Emanuele I aveva solo una figlia che, in base alla legge salica, non poteva succedergli, dimostrava attenzione alle idee liberali e privatamente confessava di non avere alcuna voglia di tutela politica da parte degli austriaci. A questi preferiva addirittura lo zar Alessandro I, del quale ammirava la sensibilità e le aperture che vi erano nel suo governo, per opera del suo ministro degli esteri, il principe polacco Adam Yersi, principe di Sartorischi. A Pietroburgo, accanto allo zar e al ministro, operava infatti un circo detto dei Giovani Amici, che si ispirava a un liberalismo occidentale e a una strategia di politica estera che avvicinasse di più la Russia a quell'Inghilterra liberale e parlamentare alla quale guardava con ammirazione Carlo Vidua. Dopo la restaurazione in Piemonte, il ritorno al suo trono di Vittorio Emanuele I esigeva, anche secondo lo zar Alessandro, un certo impegno del sovrano a ben governare e a dare ai suoi popoli una costituzione libera e saggia. Nel 1818 il 33enne Carlo Vidua si accorse però che la politica di Vittorio Emanuele I stava andando in tutt'altra direzione. La censura, l'ibadenza della Chiesa, la ipocrisia della Corte gli procuravano un senso di oppressione e di sgomento che erano simili a quelli che provava il ventenne principe e del re del trono Carlo Alberto. E nello stesso anno, 1818, accade una cosa singolare che regla in qualche maniera le aspirazioni liberali del futuro re di Sardegna a quelle di Vidua e del circolo di amici che negli anni napoleonici si era radunato nella società dei concodi. Carlo Alberto, commosso dalle prove di amicizia dei russi verso il Piemonte, sapendo delle oscillazioni liberali dello zar Alessandro I e avvertendo una certa sintonia con i giovani amici, prese una decisione a tutt'oggi poco conosciuta e davvero singolare. Decise di fuggire da Torino e di raggiungere segretamente la Russia per intrecciare rapporti politici più intensi e importanti di quelli ufficiali, per trovare spunti ideali nell'opera dei circoli politici pietroburghesi, utili alle sue future funzioni di sovrano. Il viaggio che Carlo Alberto aveva coraggiosamente iniziato fu troncato per tempo a Dresda, ma non si può escludere che la Costituzione concessa tre anni dopo dal giovane reggente trovi una spiegazione anche in questa iniziativa. Il governo russo e lo stesso imperatore viderò con simpatia il gesto del principe e anche dopo questo colpo di testa la Russia, seppur cautamente, continua a nutrire fiducia nel futuro del re di Sardegna, anche appunto nel 1821. Le cose però cambiavano quando alla morte dello zar Alessandro nel 1825 salì al trono Nicola I. Le relazioni russo-piemontesi subirono una involuzione perché il nuovo zar era in maggior sintonia con il nuovo re di Sardegna, Carlo Felice, nel voler combattere la rivoluzione in tutte le forme e nel sentirsi più vicino all'Austria e al suo ruolo di gendarme in Italia. Quindi perché vidua nel 1818 anziché partire per l'America come è in programma decise all'ultimo momento di programmare un viaggio in Russia, beh, è una coincidenza la fuga di Carlo Alberto nel 1818? Comunque da Parigi il 26 maggio 1818 vidua scrive che conta di essere a luglio a Pietroburgo. Tra i documenti conservati all'archivio storico di Casano e Monferrato troviamo il lascia passare per la Russia, uno firmato dal conte di Lieven, ambasciatore dello zar Alessandro I a Londra. Vidua poi sempre a Londra assiste a una seduta del Parlamento e qua notiamo appunto la sua ammirazione per quel sistema inglese e vidua scrive ammira quella piccola e meschina sala della Camera dei Comuni dove si discutono gli affari non della sola Inghilterra ma del mondo intero. Vidua arriverà a Pietroburgo il 1 ottobre 1818 con un altro rampollo dell'aristocrazia piemontese che il Marchese di Ciri è Alessandro Luigi Andrea Doria. A Pietroburgo Vidua e Doria sono accolti dal ministro piemontese Alessandro Cotti di Brusasco che è subentrato a Josef de Maestra come ambasciatore del re di Sardegna proprio nel 1818 altro caso, punto interrogativo. Nel febbraio 1819 Vidua incontra finalmente lo zar Alessandro I. parentesi questo rapporto diretto che Carlo Vidua ebbe con lo zar Alessandro I è interessantissimo per quanto riguarda l'egittologia nascente fu lo zar Alessandro a far capire che la capitale degli zar Pietroburgo con l'ermitage era interessata all'acquisizione delle antichità di Drovetti e quindi da lì, adesso non vi faccio la storia perché è notissima, quella collezione invece dalla Russia Vidua capì quell'importanza del momento storico e si precipitò nel 1820 dal nord Europa all'Egitto di Mohamed Ali per far sì che l'affaire Drovetti fosse suo del Piemonte e quindi il primo museo egizio insomma partisse da Torino e non da Pietroburgo però adesso arriviamo finalmente alla decisione di Vidua di fare il viaggio nell'America della democrazia il secondo tour organizzato da Carlo nell'America del nord e Messico è frutto di un grandissimo lavoro di preparazione alcuni mesi prima di partire per gli Stati Uniti Vidua raccoglie a Parigi lettere commendatizie per incontrare gli uomini più influenti grazie a Alexander von Humboldt a una serie di istruzioni nel febbraio 1825 che il barone von Humboldt gli detta per i viaggi negli Stati Uniti e ovviamente delle lettere di presentazione per l'ec-presidente Thomas Jefferson amico di von Humboldt apro una parentesi perché voglio farvi capire come centrale la figura di Alexander von Humboldt nella vita di Carlo Vidua von Humboldt definisce così il viaggiatore nella sua opera tra l'altro più famosa Cosmos scrive von Humboldt la grande e frastagliata isola di Celebes oggi sulla Vesi in Indonesia contiene sei vulcani che non sono ancora tutti spenti si trovano tutti disposti sulla stretta penisola settentrionale di Menado presso di loro zampillano ribollendo calde sorgenti solforose in una delle quali presso la strada da Sonder a Lamuwang un viaggiatore dalle molte peregriniazioni e libero ricercatore il mio amico piemontese conte Carlo Vidua sprofondò e trovò la morte per le usioni che gli provocò il fango bollente un viaggiatore dalle molte peregriniazioni e libero ricercatore questo viaggiatore che nel 1825 quando incontrò a Parigi Von Humboldt aveva ad esempio visto nel 1821 quattro anni prima di cinque anni prima di Santoro di Santa Rosa e di Lord Bagnon la rivoluzione della Grecia quindi Carlo Vidua è sempre nei momenti clou della storia europea e mondiale nei posti giusti Carlo Vidua si imbarca per gli Stati Uniti dalle Avra il 25 febbraio 1825 sul Pachebotto americano Stefania del capitano Messi è un viaggio avventuroso che dura 43 giorni di navigazione e termina appunto il 6 febbraio poi del 1826 a New Orleans quindi dal 9 aprile 1825 al 6 febbraio 1826 Vidua negli Stati Uniti poi inizia il viaggio messicano a volto del bastimento L'Antoinette scese il Mississippi e arrivò il 14 febbraio 1825 1826 a Pueblo, Viejo e De Tampico poi il 22 febbraio 1827 quindi più di un anno dopo partì da Veracruz per ritornare in Europa il viaggio negli Stati Uniti di Carlo Vidua è eccezionale per gli incontri che fa il conte piemontese a Philadelphia conosce il quacchero Robert Rose il 30 maggio a Washington conosce il presidente John Quincy Adams con Quincy Adams stringe amicizia a Vidua perché è un personaggio che ha avuto una cultura europea essendo stato lasciatore alla corte degli Zara a Pietroburgo insieme alla moglie la moglie di John Quincy Adams diventò quasi una fan del viaggiatore Carlo Vidua e John Quincy Adams è anche un personaggio simpatico perché oltre a essere uno studioso della politica e un grande presidente fu anche un grande sportivo il 13 giugno 1825 però quasi annegò con il domestico di colore Antoine sulla canoa dove perso una scarpa e una giacca il giorno prima che Vidua incontrò insieme grazie anche a John Quincy Adams Thomas Jefferson a Monticello l'amicizia con John Quincy Adams quindi non si limita alla classica stretta di mano al presidente è qualcosa di più perché Vidua rivede John Quincy Adams il primo il 4 il 7 giugno del 1825 testimone degli incontri è il viaggiatore svizzero di Basilea Lucas Fischer e Vidua ammira John Quincy Adams che non a caso nel 1817 fu voluto dal presidente Moreau come segretario di Stato e fu il principale ideologo della dottrina Moreau confermando che in politica i grandi creatori non sono quelli che concepiscono ma solo quelli che eseguiscono il 14 giugno finalmente questa è la data importante più importante del viaggio negli Stati Uniti di Vidua c'è il memorabile incontro con i presidenti americani in visita da Thomas Jefferson a Monticello Vidua ebbe la fortuna di conversare contemporaneamente anche con Madison Moreau e Quincy Adams a Monticello non c'era il vecchio John Adams secondo presidente americano dopo George Washington che Vidua incontro però il 2 settembre dello stesso anno a Boston Vidua intervista i presidenti e testimonianza sono le lettere pubblicate da Balbo nel 1834 che ho citato nel mio saggio Carlo Vidua un romantico atipico e Vidua afferma prima delle domande una cosa molto interessante i momenti che si passano con uomini di questa sorta sono preziosi ma ordinariamente perduti perché la presenza di altre persone e la circospezione impediscono di interrogare e di rispondere qui invece eravamo in villa eravamo soli io straniero esseri tirati dagli affari sicché la conversazione non poteva essere né più libera né più interessante e siccome essi non si mostravano schivi di rispondere io non mostrai paura di interrogare e condussi a poco a poco il discorso sopra molte e diverse questioni d'altra politica come sarebbero a dire le seguenti se la separazione delle colonie spagnole deve riguardarsi come irrevocabile che credere della stabilità dell'attuale loro organizzazione se potranno sussistere in forma di repubblica quanto tempo è credibile che duri la loro propria senza separarsi o senza cambiare se la molteplicità delle sette non produrrà una totale indifferenza in materia di religione se e quando sarà abolita la scavitù dei neri che pensare del gran cambiamento che Rossi fa nel sistema di finanza dell'Inghilterra che effetto farebbe il governo americano trasportato in Europa e dove sono le risposte dei presidenti alle domande di Vigua a noi non ci sono prevenute tuttavia il viaggiatore avvisa i suoi corrispondenti dal padre agli amici che queste risposte ci sono un mistero vedremo che tra i tanti misteri di questa nostra conversazione c'è anche un trattato politico il giudizio però di Carlo Vidua su quell'eccezionale incontro è originale e vi cito di nuovo dalle lettere pubblicate dal Balbo citate nel saggio Carlo Vidua Romantico Tipico Vidua osserva se mi fosse chiesto il paragone tra questi quattro personaggi e che non mi paresse presunzione di farlo direi che l'ingegno di Jefferson mi è sembrato il più brillante quello di Madison il più profondo di Monroe il meno acuto e l'ingegno dell'attuale Adams il più coltivato gli americani generalmente celebrano Jefferson come il primo uomo della loro repubblica e talora seguendo il loro uso di vantarsi dicono del mondo intero ne ho trovato pochi del mio avviso cioè che preferissero Madison ma le qualità di questi pochi mi consola del non seguire l'opinione del volgo è un peccato che Cesare Balbo nel 1834 al 1835 quando pubblica le famose lettere in tre tomi di Vidua non ci abbia lasciato anche le risposte dei presidenti questo si spiega perché all'epoca nella lingua di Sardegna c'era una doppia censura se non tripla intervenire allo stesso re Carlo Alberto c'era una censura ecclesiastrica c'era una censura dello Stato di politica non si poteva parlare di religione neanche e quindi ovviamente nelle bozze anche a stampa di Balbo queste risposte dei presidenti non ci sono prevenute io spero di trovarle un giorno in forma di coppia magari tra i documenti conservati qui all'Accademia delle Scienze finalmente il viaggio dall'America della democrazia appunto termina anche con l'incontro con Jefferson che a Monticello non è banale come quello abbiamo detto la classica sletta di mano in maniera eccezionale c'è uno scambio di lettere tra Vidwa e Jefferson e bisogna dire che Vidwa in questo è più fortunato di Tocqueville Tocqueville incontrò nel 35 il presidente Jackson ma non gli altri ex presidenti e Carlo Vidwa fu fortunato di incontrare Jefferson e Adams nel 1825 perché i due presidenti americani morirono l'anno dopo tutti e due tra l'altro lo stesso giorno il 4 luglio del 1826 mentre il paese celebrava il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza Jefferson morì nella casa di Monticello a 83 anni Adams a 90enne a Braintree nel lungo viaggio negli Stati Uniti con un periodo di ricerche anche nel Canada Vidwa si interessa continuamente alla comunità quacchere raccogliendo informazioni giornali e libri già radunati dopo l'incontro con Robert Rose a Philadelphia sul Mississippi il 17 gennaio 1826 scrive Vidwa al conte Luigi Mestre suo amico di Casale Monferrato e lontano parente di Joseph de Mestre alcune osservazioni su questa parte degli Stati Uniti chiamata Western Country sull'Ovest degli Stati Uniti ancora sconosciuti agli americani e ovviamente agli europei nelle carte dell'epoca notiamo che sono presenti solo gli stati dalla parte est quindi le prime colonie in mezzo c'è il vuoto e non si conosce ancora la California e l'Ovest perché sono territorio messicano tra l'altro all'epoca Tocqueville una decina d'anni dopo a questo viaggio spericolato di Vidwa non riuscì a vedere le stesse cose che il viaggiatore piemontese visitò dieci anni prima di Tocqueville e anche per questo il viaggio di Vidwa negli Stati Uniti è memorabile osserva 40 anni fa era una selva continua ed inabitata da Western Country 30 anni fa i primi abitatori ebbero a combattere gli indiani e dove or sorgono città e villaggi non c'erano a ricordanza d'uomo se non boschi e alcuni selvaggi questo è il più brillante teatro dell'industria di questo attivissimo popolo l'americano non ha la maladie du pays l'attaccamento al campanile di Santo Stefano il rincrescimento di staccarsi dagli amici dai parenti da una patria tutti questi sentimenti gli sono stranieri all'età di 20 anni essi prende una moglie e va a cercare fortuna all'ovest il sindaco di Boston altra personalità di spicco che Vidwa conosce negli Stati Uniti Josia Quincy tra l'altro futuro poi presidente dell'Università di Harvard scrisse di Vidwa analitico curioso intelligente collezionista di tutto ciò che riguarda la storia di questo paese Vidwa ha intento in modo non comune la ricerca della storia e dello stato attuale di questo paese poi il 17 settembre 1825 annotò riguardo alla politica Vidwa osservò che niente l'aveva così impressionato come il destino futuro degli Stati Uniti e il mancato successo alla presidenza di Jackson per poco perché il passato dimostrava che l'abilità militare e la forza avevano guadagnato l'amore per il popolo degli Stati Uniti l'apertura mentale di Vidwa è evidente nel modo in cui descrive appunto questi stati dell'ovest che in qualche maniera lo fanno anticipatore addirittura di Tocqueville e di viaggiatori posteriori come Francis Trollope che non vi serve però vedere che l'esteriorità di una vita priva di comodità all'ovest e quindi Vidwa sulla frontiera ci pare molto più profetico l'escursione in Kentucky è significativa poiché il viaggiatore riscontrò nella semplicità delle istituzioni e nella correttezza del dibattito politico i segnali inequivocabili di vera democrazia dopo gli Stati Uniti Vidwa avrebbe voluto visitare l'America del Sud aveva già visitato per un anno il Messico da New York che il 18 ottobre 1825 conoscendo Leandro Palassio politico di spicco degli Stati del Sud si fa lasciare una commendatizia per conoscere Simon Bolivar liberatore del Perù e della Colombia ma le cose andranno diversamente per un motivo familiare Vidwa sa della malattia del padre ritorna a Bordeaux a Bordeaux ha uno scambio epistolare un litigio epistolare con il padre che adesso non vi sto a raccontare però decide alla fine di non tornare più quindi diventa un esile volontario dal regno di Sardegna non vuole più tornare nel regno di Sardegna vuole continuare i suoi viaggi probabilmente scrivendo dei libri non in lingua italiana ma il francese o l'inglese per concludere diciamo che il viaggio in Vidwa ci appare quindi rivelatore di uno spirito realistico che lo spingeva ad una inesausta raccolta attraverso la conoscenza diretta di luoghi e di persone di cognizioni utilizzabili per la pubblicazione di un trattato politico il viaggio quindi come arricchimento del proprio vissuto culturale non quindi da intendersi come sintomo di irrequietudine romantica da Bordeaux nel 1889 27 Vidwa non ritorna nell'Indonesia farà il suo terzo grande viaggio arriverà in India Cina Indonesia avrebbe voluto visitare l'Australia e poi dall'Australia fare il Cile e il Peru e poi tornare con il Tour du Monde in Europa diversamente andò e in pochi giorni tra la notte del 15 16 e 21 maggio del 1829 Vidwa schrisse il trattato politico quest'opera però è andata perduta l'originale andò in fumo nel 1904 nell'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino ma il bibliotecario Bernardino Peiron ci lascia una speranza nel ritrovarlo e il ritrovamento sarebbe di capitale utilità per comprendere il pensiero politico di Vidwa anche perché l'autorevole Alexander von Humboldt amico come abbiamo visto del conte piemontese a colloquio con Federico Sclopis disse che l'idea dominante di Vidwa era quella della politica quindi ritornando alle idee politiche di Vidwa e al suo viaggio americano costellato da impressionanti incontri e dalla raccolta di una collezione unica di libri non si può più parlare di Vidwa alla maniera di Paul Hazard e dei suoi epigoni come di un giovane irrequieto che tra viaggi e soggiorni malinconici nei suoi castelli si abbandona ad esolate riflessioni proprio di chi è semplicemente uno spettatore della storia Vidwa come abbiamo visto in queste poche note non è spettatore della storia nell'aprile del 1821 non partecipa ai minuti piemontesi ma si trova in Grecia dove scopre la rivoluzione e lì anticipa addirittura Byron nel santore di Santa Rosa negli Stati Uniti è protagonista non solo per questa eccezionale visita ai presidenti americani ma sul fatto che Vidwa colpisce talmente l'americano che un senatore verrà chiamato di nome Vidwa e poi c'è la biblioteca americana la biblioteca americana Vidwa la descrive così arriverà poi nel Piemonte verrà donata dagli eredi di Vidwa all'Accademia delle Scienze ed era composta da sette casse partite appunto di libri acquistati da Vidwa negli Stati Uniti e due casse di libri acquistati da Vidwa in Messico tra queste ombre troviamo anche scrittori come Robert Owen molto caro a Vidwa scrittore appunto inglese però abbiamo la prima traduzione edizione americana New York 1825 del saggio sulla formazione del carattere umano poi dei testi pubblicati a Salem sul mondo invisibile abbiamo tutti i testi di carattere religioso dei quaccheri sul sistema penitenziario americano quasi anticipando il lavoro di Torville Edmont abbiamo tantissimi testi anche sul sistema della navigazione sui canali cosa che interesserà ad esempio il padre di Camillo di Cavour appunto il Michele ecco tutto questo per dire che il viaggio di Vidwa negli Stati Uniti di fatto anche per un fattore tempo è nettamente superiore per la qualità a quello fatto da Tocqueville e da Gustave Beaumont negli Stati Uniti piccoli dati 286 giorni passano Tocqueville e Gustave Beaumont in Nord America tra cui 271 negli Stati Uniti Vidwa ne passa ben 303 giorni in Nord America 284 negli Stati Uniti per non contare poi l'intero anno in Messico soprattutto da sottolineare che Vidwa dedicò l'escursione nell'Ovest alla Western Country un periodo maggiore rispetto a Tocqueville a differenza del francese Vidwa visitò oltre all'Ohio e al Kentucky l'Indiana l'Illinois e il Missouri il francese ebbe il tempo di elaborare il materiale raccolto nel suo viaggio la famosa democrazia in America Vidwa no fatalmente tuttavia mancò a Tocqueville una comprensione profonda della frontiera e degli stati della Western Country infatti la sua profezia secondo la quale con il passare del tempo gli stati dell'Ovest avrebbero indebolito il potere federale si è rivelata sbagliata cosa sarebbe stato il lavoro di Carlo Vidwa sugli Stati Uniti ce lo dice lo stesso viaggiatore in un appunto dei taccini di viaggio a Ternate il 13 settembre 1830 decide di scrivere questo saggio sugli Stati Uniti sulla democrazia in America in francese ovviamente lui non conosceva ancora la democrazia in America che non ha mai conosciuto Tocqueville il titolo è Souvenir d'un voyage aux Etats Unis da due a trecento pagine niente statistica questi sono poi i capitoli che indica Vidwa nel taccuino rap conversazione con i presidenti americani la Western Country caratteristiche religiose ospedali prigioni governo costituzionale su transizione con la rivoluzione Tocqueville ovviamente ebbe la fortuna di rielaborare i dati raccolti nel suo viaggio negli Stati Uniti nei famosi due volumi il primo uscì a Parigi nel 1835 fu letto dallo stesso Camillo Benso Conte di Cavour era il libro alla page del momento e nel 1840 quando uscì il secondo volume fu letto dal cugino di Carlo Vidwa Luigi Leardi quello che appunto portò la biblioteca americana all'Accademia delle Scienze Tocqueville afferma che la democrazia però può anche degenerare e osserva il dispotismo della maggioranza maggioranza quindi come una presenza dispotica Tocqueville è un aristocratico fino al midollo ma è a paura della folla Vidwa no è un aristocratico ma non vuole ad esempio con sé dei servitori non vuole con sé un domestico viaggia da solo è un libero ricercatore come dice Humboldt termino questa conversazione osservando Tocqueville con Marx è il maggior pensatore politico del diciannovesimo secolo cosa sarebbe stato Carlo Vidwa se avesse pubblicato il suo volume sui Stati Uniti d'America avesse pubblicato